Il buco. Dio mio quanto è lontano, 1960. Io, prima di Il buco, non sono mai stato al cinema. Avevo visto due film perché ho avuto una vita molto avventurosa. Per esempio, a 17 anni mi sono rimbarcato e ho fatto 20.000 km in autostop negli Stati Uniti. Poi sono tornato in Francia, poi ho fatto un mestiere, eccetera. Poi ho fatto anche due guerre, la guerra d'Indocina come tenente di riserva volontaria nel 1953, diversi mestiere tornando dalla guerra. La guerra d'Algeria in 1958 sempre volontaria. Avevo una vita molto avventurosa e sempre in movimento. Per ogni volta che tornavo a Parigi, giocavo a rugby, che era il mio sport preferito. Ero l'amico di Jean Becker, il figlio di Jacques Becker, che eravamo amici. Lui giocava a volleyball, sempre io a rugby, e mi diceva, papà vuole vederti, papà vuole vederti. Io non avevo mai mai pensato ad essere un attore. Comunque lo vado a trovare all'hotel Raffaele a Parigi e scopro un uomo affabile gentilissimo, che mi diceva, Philippe, io vorrei che tu recitasse Manu, Manu che aveva scritto nel romanzo Giuse Giovanni, il buco. Jean mi ha parlato di te, vedrai che il cinema ti calmerà la tua la tua bulimia di vivere, vivendo diversi personaggi, eccetera. E io ho detto sì perché a quest'epoca avevo finalmente trovato un lavoro con gli americani e ho detto a loro, guardate, il produttore mi ha detto che per quattro settimane potevo girare questo film, il buco. Dunque io vengo durante le mie vacanze a lavorare in ufficio e al pomeriggio, perché in Francia si lavora da mezzogiorno in poi, vado a girare questo film. Le prendo come vacanze. Invece di quattro settimane ha durato dodici, le americane mi hanno ringraziati e mi sono ritrovato senza lavoro. Jean Becker voleva cinque non professionisti veri, dunque, di fatto non abbiamo avuto problemi con lui perché eravamo noi. Io ero io, come ero, non avevo nessuna difficoltà a lavorare il scenario, lo script, perché ero io, dunque. Becker era con noi, come un padre, dolcissimo. E tutti noi facevamo la nostra propria vita dentro questa cella. Io mi ricordo quando arrivavo al bar del studio di Biancourt, ma io non capivo niente, che cos'è, devi assolutamente, va bene il magazino, come un magazino, che cos'è, che va bene devi andare sul plateau, lo plateau, che cos'è, che non capivo niente. Mi ricordo anche che una signora abbastanza anciana, tutta bionda, cos'è, che fuma cigarette, tutto maquillaggio, e io dè, ma che cosa sarà, che fa? E allora sono venuto a Camarli, l'aspettiamo, io ho detto al bar, ma chi è, figurazione, mi dice, compassata. Ah, non capivo niente, assolutamente, che cos'era un quadragio, una luce, una cosa, assolutamente. E ero io, e poi mi lasciavo istitivamente dentro la parte di questo personaggio, che era un personaggio tosto e che mi piaceva. E lui non ci ha mai da tutta una direzione di recitazione, hai capito? Per esempio, Jean Constantin era sempre sdraiato, va bene. Raymond Meunier stava sempre a scherzare, bene. Jean Kerodi stava sempre a fabricare per poter se vedi. Ha capito? Era tutto una cosa bellissima, perché eravamo noi. Eravamo pieno di admirazione per Jean Kerodi, che era il re dell'evasione, perché è stato più volte in carcere e è sempre evaso. Non, non, avevamo per lui una grande admirazione, grande admirazione. E successo è venuto dopo, perché all'inizio, all'inizio dell'epoca, nel 1960, parlare di cinque uomini in carcere non era così ovvio. Poi, poco a poco è diventato un film cult, questo è vero.